buongiorno a tutti sapete la novità? io mostri dei vecini, magicamente sono andato a togliere tutti i video su youtube perché youtube mi cancellava i video e diceva che non rispettava la privacy della comunità perché youtube adesso è come fosse l'asilo e fanno i bambini si mette un canale fatto per adulti youtube dice che non è possibile perché io devo fare i canali per i bambini ti tratta come un deficiente youtube magicamente sono andato a togliere tutti i video dai 5.000 video che avevo e sono andato a 400 video magicamente mi esce il messaggio di google conferma la tua identità da 2016 a mo ma cercate a rendere amici da 2016 a mo che sono andato magicamente l'account pasquale esposito per illo 1983 gioccio da gmail è stato hackerato che già mostri dei vicini che è stato hackerato rubato perché le iscrizioni con gli amici erano erano tolte mi mandavano un sacco di messaggi di truffo all'angop mp dei panni meta ce lo dico di non mandarmi più i panni a questo indirizzo perché dico che la posta elettronica è stata rubata allora tu fattore tu caro figlio di troia ma non dica un faccio perché mamma non dico più scuola va bene ma non dico un faccio sei un grande figlio di troia va bene mamma è una troia parlisci poco come mi resta comodo va bene mamma è una grande cessa va bene me ne ha fottuto ricchiato il cangop tanto l'account non lo comando più io io in questo accanto non ci sto più perché sul computer questo accanto non me lo fa più aprire la posta elettronica gemelli io non la apro più avete capito mostro in deve scendere io i video su youtube li volevo già togliere da parte mia ma non posso più accedere su youtube quindi qualsiasi cosa vi succede se qualcuno vi parla il mio nome su youtube e vi minaccia perché io mostro mi c'è un truffatore non voi non sono più io io questo canale youtube non lo comando più io va bene posso fare i video sul telefono però la posta elettronica di youtube non ce l'ho più perché vuole identità da tanti anni che mi conosci dal 2016 che mi conosci il tuo account è sotto attacco allora grandi figli di puttana tu vuoi la morte di tutti i genitori in sala operatoria fammi capire io mostro in deve scendere io direi che in stesso senso mostro in deve scendere questo accanto è rubato mostro in deve scendere non c'è problema questo accanto sulla PSC 5 l'ho già eliminato youtube su PSC 5 già l'ho eliminato ovviamente l'accesso all'online con il PSC 5 e allora caro truffatore io ti maledico a morte a te famiglia perché sei tu che sei stato perché ti conosco troppo bene ti conosco troppo bene quando vedo con un account invece identità significa tu ma rubate quell'account perché youtube non ti cerca l'identità se ti riconosce da anni quindi sei tu che mi hai fatto togliere i video sei tu che mi hai segnalato e allora devo parlare con il mio avvocato devo parlare con il mio avvocato e devo correlare a youtube devo correlare a 3 devo correlare a gog perché non è possibile perché sono tanti anni su google sono tanti anni e nessuno mi ha detto l'identità te lo vedete scordare io non do né numero di telefono e né codice fiscale mio che l'ho perso pure non do niente niente di niente di mio scema in un uomo vuoi sapere voi volete qualche disgrazie in famiglia dovete qualche lutto in famiglia voi truffatori perché se non ti faccio male non capite che devo lasciare la cesta con me non ti faccio male non capite lasciare la cesta ma tutti i palli e tutti i morti, tutti i morti, tutti i morti, mamma vostra, bandi mongolati scemi e deficienti, si faceva buffo su una coppa internet, ma a me si vive cagata sotto, perché mi sapevo che mai non vuole questa volta, su tutte le altre mazzelle che ho fatto, ma è che mai non vuole mi sapevo, è che lui scemo che ha detto che la capoele non sono buona a fare come è, ha fatto 10 anni la capoele, strunza, va bene, 10 anni ha fatto la capoele, se mi faccia muovere perché avevo il grasso, avevo il problema con il nickel, perciò non ce la facevamo muovere, ora capisco perché, quindi, ma non è scemo, è finito la pazzia con la mia, è finito la pazzia, ti ha rubato l'account a casa, io non sono diversi, mi hanno rubato l'account di posto elettronico, ora chiamo a chi li teme e mi dico, non pensate più a questo indirizzo e mail che è stato rubato, cancellatelo, così tu non puoi fare gli acquisti e manucurire la casa mia, va bene, non mi puoi fare più gli acquisti e manucurire la casa, intanto un altro account per fare gli acquisti online, ma non lo devo accadere a te, va bene, Pasquale Esposito Perillo, questo account youtube non farà più video della playstation, né ps4 né xbox serie x che ora comprerò, non usciranno più video, ho cancellato gli ultimi video che ci saranno, 400 video, vedrò se li posso cancellare con il telefono, ma video su youtube dei miei gaming saranno eliminati, io li stavo eliminando perché io mi ha giro tutto cazzo, mi ha giro tutto il padre, di questi parassiti, di questi vermi, dei vermi che mangiano la casa della tavola, che residui vuoi? dei vermi che vanno schiacciati, un corpo tenete a merda, non tenete, non tenete!